E ci troviamo vicino a un ritratto di un artista che ha fatto della figura, delle nature morte, delle figure femminili e comunque dell'elemento rappresentativo del corpo umano e del viso del ritratto uno dei segni fondamentali della sua pittura. Guardate che meraviglia questa giovane donna, aggraziata, con questi occhi molto vivaci, molto vivi, quasi maliziosa, con questo ovale perfetto, molto definito che fa da contrasto all'abito e alla postura che sono invece accennati in un modo completamente diverso. Sicuramente lo avrete subito riconosciuto, anche lui, Achille Funi. Achille Funi, un futurista che però ha tratto una lezione dal passato profondissima perché i suoi riferimenti alla costruzione cesaniana del ritratto sono continui e soprattutto appunto una persona, un artista che ha saputo sempre valorizzare il dato umano del ritratto. E molto bella anche l'atteggiamento delle braccia conserte con questa mano, guardate questo anello curioso che viene inserito nell'annulare, non nell'annulare ma nel mignolo, guardate che particolarità, e questo bicchiere vuoto davanti a lei, questo senso quindi di spoglio che valorizza questa figura, questo mezzo busto e questo viso che si rivolge a noi e che ci guarda con una forza, con una penetrazione di questi occhi blu scurissimo, blu scurissimo e neri che sono veramente fantastici. Achille Funi ci sarebbe da dire tanto sulla sua vita, naturalmente sulle sue scelte e sulla sua arte che ha attraversato anche per lui una serie di momenti particolari, però andiamo subito a dare l'aspetto tecnico dell'opera perché il tempo stringe, si intitola donna al caffè e una bella tempera su carta applicata su masonite, dimensioni decisamente interessanti, 71 cm per base 50, l'opera è firmata in basso a destra, eccola qua e anche qui, anche qui vi vogliamo stupire perché questo Achille Funi è proposto a una base d'asta di attenzione, attenzione soltanto, veramente soltanto, dobbiamo dirlo, lo uso spesso anche con Vanessa, tante volte diciamo solo, ma è la verità perché sono prezzi di facile accessibilità a fronte di queste firme e di opere così interessanti. Prezzo di base d'asta soltanto 4.000 euro a fronte di una stima che va dai 5.000 ai 7.000 euro e quindi anche per questa opera noi aspettiamo che voi, amanti dell'arte vera, possiate fare la vostra telefonata, i numeri li leggete in sovrimpressione, opzionate subito l'opera facendo il vostro rilancio di base d'asta e potete così entrare nel vivo della gara dell'asta di lunedì 19 marzo. Lasciamo con malincuore anche questo altro bellissimo ritratto di Achille Funi, altro ferrarese perché abbiamo avuto The Pisces e quindi una rappresentazione significativa di quella città e degli artisti, di alcuni dei più importanti artisti che hanno visto la luce in quella splendida città e andiamo alla prossima opera.